Bella ragazzi e bentornati dal vostro Silverala. Oggi siamo qui per parlare di un match molto combattuto che ha visto alla fine l'Inter trionfare per 3 reti a 1 sul Chievo Verona. E' stata una partita molto difficile, una tra le partite in cui ho visto veramente l'Inter dominare e poi essere colpita a freddo, neanche fossimo in un videogioco virtuale di calcio come nelle peggiori partite scriptate di FIFA. Ebbene sì perché nella gelida notte di San Siro che vede l'apertura del nuovo spogliatoio dell'Inter, l'esordio di Gagliardini, l'Inter passa in svantaggio 1-0 contro il Chievo Verona. Dopo una partita che però i nero-azzurri stavano portando avanti con maggiore concretezza rispetto agli avversari, Pellissier colpisce a freddo da un calcio d'angolo vanificando tutto ciò che di buono si era visto nel primo tempo quando prima Candreva, poi Cardi e poi Perisi ci avevano tentato di impensierire la porta del Chievo, trovando però davanti a loro uno strepitoso Sorrentino che come consigli e forse qualche altro giocatore quando vede l'Inter si gasa e come quando un toro vede il rosso del torero, veramente diventa devastante. Sorrentino comunque è un ottimo portiere, questo bisogna dirlo, bisogna specificarlo, però contro l'Inter vive veramente serate di exploit, diventa un portiere superiore a noi. Oggi ha parato l'incredibile, l'impossibile, l'inimmaginabile, le avevo tirato anche una bestemmia, ha parato anche quella. Ma a parte gli scherzi continuiamo a parlare della partita. Il pareggio arriva al 69esimo, è importante comunque saper reagire perché se da un lato l'Inter veniva prima della trasferta di Udine da diverse partite in cui non subiva gol questa è la seconda che vinciamo in rimonta perché l'Inter deve anche saper reagire a situazioni di svantaggio, questo è importante nel calcio perché bisogna essere preparati a tutto. Il pareggio di Cardi finalmente che Andreva mette dentro decentemente uno dei suoi cross perché ovviamente che Andreva è il più crossatore della Serie A questa volta però il 69esimo colpisce bene i Cardi che anticipa Spolli, la prima volta che l'ho anticipato da Inelli, non ricordo e mette alle spalle di Sorrentino che precedentemente aveva comunque riparato l'impossibile, non sto neanche qui a ripeterlo ma clamorosa una parata prima su Perisic di testa e poi su Icardi. Sull'1-1 l'Inter spinge, il Chievo diventa una squadra che preferisce portare a casa questo pareggio e quindi campera completamente sulla porta ovvero Piazza è un vero e proprio camper difensivo davanti alla porta, un vero bus, una Sara Cinesca ragazzi ma la Sara Cinesca non reggono e quindi se continui a colpire alla fine il risultato lo ottieni, il gol lo segni quando il gol è nell'aria e poi insisti, insisti, insisti raramente non lo trovi. Il gol del vantaggio lo segna l'uomo della provvidenza dell'Inter, Ivan Perisic che all'86esimo ignora Palacio dopo una grande recupero di Cardi a centrocampo e non si direbbe Perisic prende la palla, ignora Palacio come ho detto già sulla sinistra con un gran destro, batte Sorrentino che qui sbaglia il posizionamento e non riesce a parare una conclusione che secondo me vedendolo nel primo tempo avrei scommesso che comunque sarebbe riuscito a prendere anche quella Mentre l'ultimo gol è di Eder, bella l'azione di Cardi che vuole far segnare Palacio perché la riconoscenza nei confronti di chi ha portato alto il nome dell'Inter prima che il nostro bomber arrivasse è tanta ed è abbastanza riconosciuta Palacio comunque non riesce a trovare lo spazio per tirare, fa una cosa saggissima, molto saggio, ovvero mette dietro perché quando fai un traversone dalla linea di fondo dietro raramente la difesa si può trovare preparata per reagire Eder arriva impattando fortemente in maniera molto vigorosa e Sorrentino non può fare assolutamente niente L'Inter porta a casa il risultato 3-1, fatemi sapere cosa ne pensate, siamo a meno 2 della Champions ragazzi Quest'anno ci credo perché l'Inter sa vincere senza subire gol, sa soffrire però sa veramente vincere da squadra unita Grande Pioli, sei un grande Bella ragazzi, un saluto da Silveral Grazie